E bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo video Oggi sono con Mattia Una nuova persona portata sul canale E con lui oggi faremo una piccola challenge, dai Soltanto Pinnacoli Quindi soltanto a... come si chiama? Come si chiama? Pinnacoli Brumosi, giusto? Mattia si chiama Torribislac Ecco, quindi solo a Torribislac E quindi soltanto a Pinnacoli 2.0 Io direi Matti, mettiamo pronto E possiamo cominciare Oggi giocherò da pad, come sto facendo ultimamente Perché devo dire che il pad della Xbox Series X è veramente, veramente bello Tra un po' vi porterò anche dei gameplay Penso anche su Warzone e su Fortnite Con proprio la Xbox Series X Per farvi vedere la grafica che è spettacolare Cioè, soltanto per farvi capire Appena ammazzerò qualcuno, guardate quando muore Cioè, è una cosa veramente indescrivibile È troppo bella Allora, dove atterriamo? Ah, che do dico a fare? Qua L'obiettivo è anche fare una vittoria, Matti Qua Io lo ho già fatto una vittoria No, intendo fare una vittoria nel video Perché anche io ho fatto più di una vittoria in questa season Anche una è live Non è vero, non è vero Non è vero, non è vero Oggi Antonio fa il paddino No, dove? Atterriamo là Quale è il nostro spoon rate Che bello questo gioco Bello, questo c'è il piccone d'oro Cioè, c'ha il deltaplano di... Come si chiama? Oro Troppo bello quel deltaplano Il dragone dorato Anche brello bello è bello Il lombrillo di questa season Della vittoria Cioè, gente Ci sono due persone da me, Matti Allora, Matti Ci sono due persone da me Io sono morto Eccala, 75 in headshot Che gioco di... Ah, che bel gioco 75 in headshot E l'avete visto anche voi Che era in headshot Perché era giallo E non perdervi nessun nuovo video Perché ragazzi Tra poco porteremo anche Una serie Sul canale Dopo questo Io non faccio spoiler Certo, certo Possiamo anche invitare Anche qualcun altro Possiamo portare anche Rogocompany Volevo portare anche Apex Però non so se dopo Mi lagherebbe la registrazione o meno Non so Overwatch Non l'ho mai provato A massimo lo scarico Lo provo per la prima volta Con Il mia Community Community Perché dico Community Oh ma tu non hai capito Io sono una diabla Io ti rovino la vita sociale Ma ti vieni da me stavolta Per favore No Se canti Non c'è il copyright Il copyright C'è soltanto Quella parte Eh vabbè Non fa niente Si fanno due risate Gli scritti C'è gente da me Che brutta cosa C'è uno sotto di me Boh lo vado a pushare Questi cavoli Matti è qui Beh Buongiorno Aspetta Lì ho fatto un doppio 35 Aspetta 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 Preso al volo Tieni matti Vabbè Questo qua Ha la mia Più schifosa Della mia Questo aveva La mia peggiore Della mia Matti Stai raggando Per caso Ti hai ribloccato Tu Mattia Io ero Perfetto Ehm Va bene Va bene No E stacca Stacca Ah io me lo ricordo A questo punto La prima volta Che sono attenuato Qui Ci ho fatto 5 kill Qua dentro No Quella là si vedrà Il nostro lag Eccoli Li vedo Quello là Secondo me Non è una persona Cioè è una persona Ma non so il perché C'è il soffio di drago Quello è mio Tu stai fermo Il soffio di drago È mio Dipende da chi Se lo killa Va bene Matti Te la sei andata a cercare Però è quando hai detto Che non te lo killavi Ma tu non l'hai provato Eh guarda che Anche se ti dice Che ha 4 colpi E il caricatore Ne spara uno solo E mi raccomando Dai un hit fatto bene Perché se no Non ti fa Non ti fa Praticamente danno Conta che In headshot Perfetto Ti fa 170 Bo Andiamoci 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 Mattia Andiamo a prenderci Andiamo Per fortuna che lo guido Io il camioncino di Zatom Per fortuna che lo guido Io il camioncino di Zatom Tipo Tipo Aloschi C'è gente Sei Tito E perché lo devi saper usare Matti Eh se vuoi Dallo a me Preferisco Perché io L'ho capito Come si usa Perché devi essere Proprio attaccato Eh allora Non è il mio Il mio Non è la k Quindi fai tu Matti dove sei? Sì che ci sono Cassa leggendaria C'era qua La riesci a prendere la pozza? No Peccato Ma che cos'hai come cura? Ma scusa Ti dice Un'altra pozza Ah ok Ora si spiega Tutto Allora Si è stupido Ti hanno sparato Sì e li vedo anche Bravo Matti GG Ho tirato Un scendino A Monculi Però A che? A Monculi Cioè? È lontano D'8000 No dammi Gli scendini Corriamo a prendere Le airdrop E poi andiamo Cioè in zona L'hanno aperto Anche C'è gente Hanno trovato Un tac viola Matti Quindi se lo vuoi Allora Uno io ho fatto 36 e 35 Matti corri se vuoi La roba Non mi hanno visto Forse Se non mi hanno visto Sono stupidi Allora Uno io ho rotto Lo scudo Ho rotto lo scudo No c'è altra gente C'è l'altra gente Io odio Comunque ragazzi Se volete I miei setup Del controller Non c'è Eh boh Ma comunque Tanto poi Li taglio io In casa Dove andiamo? Io direi A Torribislac Poi non lo so Questa è la seconda partita Che abbiamo a disposizione Dobbiamo vincere Capito? Porca vacca Sembrava un nonno Io stavo per dire Perché c'è il nonno Io voglio volare Tieni 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 Qui ci stanno anche altri colpi Eh vuoi una metraglietta Comunque ragazzi Ricordatevi che sotto C'è anche il mio Instagram E il mio tiktok Cioè Questa cosa è non da dimenticare Cioè non ve lo dovete dimenticare Allora da qua Se cade non faccio male Quindi facciamo Tiktok E vado qua Eh matti Aspetta Eh aspetta 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 C'è gente Cosa aveva Marti qua da me c'è gente E vabbè Marti mi hanno fatto male Mi hanno distrutto Letteralmente Addio Addio Marti Addio Marti a buia E vabbè Torniamo alla lobby Ah giustamente ragazzi Mi sono appena ricordati Prima di chiudere Metterò anche il link Il Mattia Il Tiktok di Mattia Cioè Il Il canale Tiktok di Mattia Il nome Beh con questo io direi Che se il video vi è piaciuto Che se il video vi è piaciuto Vi invito a lasciare un bel mi piace A iscrivervi al canale E attivare la campanellina Per non perdervi Nessun mio video Beh detto questo Bella Bella